Allora, buongiorno, benvenute e benvenuto al secondo incontro del corso Donne e letteratura. Prima di tutto, prima anche di introdurre Veronica, vorrei fare una comunicazione di tipo organizzativo. Perchè la vostra iscrizione, la vostra partecipazione a questo corso venga accreditata dal MIUR, dovete iscrivervi anche sulla piattaforma Sofia. Il codice del corso di letteratura italiana è 28645. Ci dispiace, ma soltanto siamo riusciti a far inserire, con la tempistica ministeriale che è un po' lenta, il corso su Sofia solo ora. Dunque il codice è 28645. Comunque trovate la scheda completa, la riconoscete perché è la stessa che è sul nostro sito, con l'indicazione appunto del corso, eccetera. Questo lo dovete fare entro il 15 aprile. Poi provvediamo noi dal punto di vista organizzativo a segnare le presenze, i registri e tutto, però ci deve essere questa vostra ulteriore iscrizione. Grazie. Poi magari vi mandiamo comunque anche una mail in cui riportiamo di nuovo tutti i dati, però insomma ci teneva a dirvelo. Detto questo, cedo subito la parola a Veronica anche perché avrà molte cose da raccontarvi. Veronica Andreani è normalista, ha studiato qui con Lina Bolzoni e la sua tesi di dottorato era sulle rime di Gasparastampa, cui ci parlerà anche oggi infatti, che è anche il suo principale... No, non trovo la presentazione. Aspetta, ti aiutiamo. Intanto vi racconto di Veronica, appunto che è anche il suo principale ambito di ricerca, insieme comunque anche a Vittoria Colonna, le rimatrici del Cinquecento. Veronica non è però solo una studiosa, una ricercatrice, ma è anche un'insegnante. Ha insegnato a NYU italiano per due semestri e dal 2015 novembre, Veronica mi sembra, novembre 2015 che insegna invece nelle scuole superiori materie letterarie. Attualmente è assegnista di ricerca qui alla scuola, però ha questa duplice veste, appunto, sia di ricercatrice che di insegnante, per cui sicuramente troverai il modo di porvi le questioni in un modo che si presta bene all'occasione di questo corso. E quindi le cedo immediatamente la parola e vi ringrazio di essere qui di nuovo. Speriamo, sì. Grazie. Un buon pomeriggio a tutti e grazie Serena per la presentazione e benvenuti anche da parte mia a questo secondo incontro. Dunque comincio subito con il titolo che ho scelto, che però forse non rappresenta benissimo, quindi la struttura vi anticipo insomma quello che ho pensato di fare in questo mio intervento. Quindi nella prima parte farò alcune considerazioni sulla presenza delle donne nella letteratura del Cinquecento come fenomeno complessivo. Poi nella seconda parte mi occuperò più che altro di come questa letteratura e questa presenza femminile è stata riscoperta dal Settecento, l'Ottocento e anche la critica novecentesca. E poi verrò appunto ad un'analisi più mirata, diciamo, sul canzoniere di Gasparastampa, che è l'autrice su cui vertono anche i miei studi. Il tutto spero con l'obiettivo di fornirvi alcune coordinate, diciamo, utili anche per trattare questi testi e i temi anche che da questi testi emergono, a cui questi testi sono collegati nelle aule scolastiche. Allora, cominciamo subito con l'idea delle voci, le voci di donne, perché veramente quella che, diciamo, dalla quarta decade del Cinquecento si nota è la comparsa di una polifonia di voci femminili che si rendono udibili tramite la pubblicazione dei loro testi a stampa. Quindi compaiono libri che hanno sul frontespizio il nome di una donna, di un autore donna. E qui vi ho riportato una lista di alcuni dei testi più, diciamo, significativi, la cui novità è rappresentata quindi innanzitutto dal fatto che si tratta di testi di argomento non più religioso, cioè, diciamo, non sono le epistole devotissime di Santa Caterina da Siena che ovviamente in quegli anni erano un testo a stampa altrettanto fortunato. Sono donne viventi o comunque contemporanee e scrivono soprattutto lirica, quindi rime, con uno spettro tematico anche ampio, perché sono rime amorose, sono rime politiche, rime spirituali, rime di corrispondenza, ma prevalentemente all'inizio della comparsa delle donne nella letteratura del Cinquecento il genere privilegiato è assolutamente la lirica. Abbiamo visto la settimana scorsa Tullia d'Aragona con il Guerin Meschino, anche qui vedete riportato il dialogo dell'infinità d'amore, quindi anche altri generi, ma all'inizio quello che predomina è la lirica. E compaiono sulla scena letteraria donne differenti, perché allora la prima che vedete è che è considerata a buon diritto, insomma, la decana della poesia femminile del Cinquecento, cioè Vittoria Colonna, è membro di una delle più potenti famiglie dell'aristocrazia romana, è la moglie poi vedova dell'eroe della battaglia di Pavia, Francesco Ferrante d'Avalos, che muore in seguito alle ferite riportate in battaglia e che scrive quindi soprattutto rime vedovili e poi nella seconda parte della sua vita invece si dedica ad un tipo di petrarchismo spirituale. Poi abbiamo Tullia d'Aragona, l'abbiamo vista la settimana scorsa, che è una cortigiana. Laura Terracina, che è una poetessa napoletana che proviene da una famiglia nobile, ma di scarso, insomma, poco rilevante peso politico e probabilmente una famiglia decaduta, insomma, ristrettezze economiche. Abbiamo Gasparastampa, padovana, poi veneziana, vedremo, e Chiara Matraini di Lucca, che provengono da un, diciamo, ambiente borghese, e poi abbiamo Laura Battiferri, che era la figlia naturale di un nobile, urbinate ma con incarichi importanti in Curia a Roma. Famiglie, abbiamo anche, accanto alla colonna, una donna che non vedete, una poetessa che non vedete riportata nella lista, perché non tutte le donne hanno edizioni autonome di loro testi. Per esempio Veronica Gambara, che appunto insieme alla colonna è l'altra decana della poesia femminile del Cinquecento, non ha un'edizione autonoma dei suoi testi, e le sue rime compaiono all'interno delle antologie di liriche, che sono un genere molto fortunato, alla metà del Cinquecento, di cui vi ho riportato, diciamo, il capostipite, in qualche modo, che sono le rime diverse di molti eccellentissimi autori, dove ci sono anche le rime della Gambara, e poi vedete che questo genere delle rime si specializza anche in senso femminile, perché nel 1559 viene pubblicata una raccolta di soli testi lirici femminili. Quindi diciamo, abbiamo un panorama abbastanza ampio, come vedete, figure diverse, e a proposito del quale vi cito un breve commento di Dionisotti, delle cui parole veramente, come ho sentito dire una volta, è così, insomma, non siamo mai sazi, che scriveva, il fenomeno della rigogliosa letteratura femminile italiana a metà del Cinquecento, anzitutto si spiega con l'improvvisa larghissima apertura linguistica di quegli anni, cioè sono gli anni in cui, come sapete, grazie alla stampa, il volgare si afferma definitivamente, in qualche modo, sul latino, sono gli anni in cui Bembo, prima con le prose, poi con le sue stesse rime, nel 1530, fa di Petrarca il modello unico della poesia volgare, e quindi, diciamo, è un momento in cui la società letteraria aderisce con entusiasmo a questa nuova proposta linguistica e si sviluppa quindi il petrarchismo come nuova lingua della cultura e chiaramente questo permette alle donne a cui solitamente era preclusa la formazione umanistica che invece ricevevano i maschi, di accedere più facilmente alla cultura e è anche il motivo per cui all'inizio le donne scrivono soprattutto lirica, cioè la loro alfabetizzazione, diciamo, linguistica e letteraria avviene prevalentemente sulla lirica e su Petrarca. E quindi mi piaceva tornare anche al ritratto che già aveva mostrato Lina Bolsoni la scorsa settimana, il ritratto di Laura Battiferri, che credo rappresenti in modo straordinario la legittimazione e la progressiva anche affermazione del ruolo della poetessa nel Medio Cinquecento perché qui la poetessa è celebrata come nuovo Petrarca perché autrice di rime, petrarchiste, è un po' l'erede della colonna in qualche modo la Battiferri come genere letterario e anche però dal profilo, come vedete bene, è un richiamo chiaro, insomma un punto fermo nella critica che qui è un elogio della poetessa in quanto anche nuovo Dante che in una città come Firenze era sicuramente la lode più grande che si potesse fare di un poeta. E se riprendiamo anche l'altro ritratto che aveva mostrato sempre Lina Bolsoni la scorsa settimana, qui vediamo La dama col petrarchino di Andrea del Sarto, vediamo la centralità anche del libro, del libro che queste donne tengono in mano e in questo caso dicevamo già qualcosa l'altra volta cioè probabilmente non si tratta di testi a stampa cioè non è, sono manoscritti nel caso della Battiferri perché avevamo detto se vi ricordate che i due sonetti che si leggono nel libro che lei tiene aperto in mano non sono contigui, no? Quindi non può essere un'edizione a stampa del canzoniere con la sua struttura di componimenti uno dopo l'altro con un ordinamento ben determinato. Nel caso di Andrea del Sarto recentemente Giuseppe Patota ha pubblicato un articolo molto bello in cui ha fatto notare che diciamo dal punto di vista dei testi riportati in quel libro vediamo i testi di una stampa precisa del canzoniere che era uscita a Firenze nel 1522 però quel formato particolare un po' oblungo in realtà è un formato che non era un formato a stampa cioè è come se fosse un oggetto ibrido tra il manoscritto e la stampa e questo parla anche bene proprio di quel momento di transizione in cui ci troviamo tra la cultura del manoscritto e la nuova stampa che si afferma in cui veramente il petrarchino quello originale diciamo adesso ve lo mostro è questo cioè è il petrarchino a cui probabilmente si riferiva anche Bembo quando questo termine compare proprio nelle sue lettere cioè le cose volgari pubblicate da Manuzio nel 1501 a Venezia io cerco sempre anche quando sono in classe di far vedere quando mi capita quando ne ho l'occasione proprio i testi materialmente materialmente noi ragazzi perché questa volta per loro è più difficile anche fare il passaggio da quello che vedono nell'antologia e poi a pensare che invece ci sia un libro vero dietro e questo è un esemplare molto bello che è un'immagine che ho scaricato dal sito della Biblioteca Nazionale Marciana dove c'è una mostra virtuale sui capolavori insomma le edizioni di maggior pregio della biblioteca e questo è un esemplare anche appartenuto a qualcuno questo mi piaceva insomma che ci fossero anche le note quindi è un libro a cui qualcuno ha voluto bene che qualcuno ha sfogliato che ha letto ovviamente e che ci fa vedere bene anche ho lasciato i righelli le innovazioni anche che arrivano con la stampa cioè come sapete Aldo Manuzio è stato veramente un designer rivoluzionario del libro e quindi qui siamo di fronte all'ottavo c'è l'ottavo piccolo il tascabile quindi c'è un nuovo pubblico di lettori anche che si appassiona questi testi che li vuole avere li vuole tenere in mano più possibile e comodamente e poi inventa il corsivo il corsivo con cui lui cerca di mimare in qualche modo le legature della scrittura a manoscritta che erano difficili chiaramente da riportare a stampa quindi questo diciamo adesso per tornare poi più specificamente sulla scrittura femminile però siamo in un momento in cui veramente c'è un'affermazione forte che passa tramite anche l'affermazione del petrarchismo quindi trattare anche le donne poetesse nel momento in cui si studia la questione della lingua e il petrarchismo può essere un momento secondo me buono insomma per affrontare il tema ora questa questa slide diciamo quindi torniamo un po' alla scrittura femminile in generale non tanto alla lirica ma sono due immagini che ho preso dall'Atlante della letteratura italiana in Audi che è uno strumento di consultazione utile perché penso perché ci sono anche tanti grafici che quindi permettono di visualizzare presto insomma subito certi fenomeni e qui vedete che l'arco cronologico è un pochino spostato anche rispetto a quello che abbiamo detto all'inizio cioè siamo già oltre l'inizio del fenomeno della scrittura femminile è il momento forse più florido questo nella seconda metà del Cinquecento e vediamo subito due cose cioè per quanto riguarda la pubblicazione dei testi e vabbè questo un po' lo sapevamo Venezia è la capitale del libro a stampa poi vediamo però anche che queste donne sono principali luoghi di residenza cioè vivono in tanti posti diversi insomma centri grandi e centri più piccoli e mi interessava farvi vedere questi grafici perché Virginia Cox che già citava l'inabolzione la scorsa settimana che è una studiosa veramente importante per gli studi sulla scrittura delle donne poi ci torno a breve commentando uno studio comparato sulle pubblicazioni di testi femminili in Europa nel Cinquecento ha fatto giustamente notare che se in Italia possiamo contare circa più di 200 nomi di poetesse nel Cinquecento in Francia ne possiamo contare 30 in Germania 20 in Inghilterra 17 cioè veramente questo all'inizio cioè è un fenomeno distintivo della tradizione della cultura italiana della letteratura italiana e tra l'altro la Cox faceva anche giustamente notare che si tratta di testi pubblicati in tante città cioè non solo le grandi città Venezia Firenze ma anche piccoli centri e anche questo parla un po' della specificità del territorio e della diciamo cultura italiana dove l'editoria per esempio da noi era sviluppata anche in provincia cosa che in altri stati europei non succedeva perché se pensiamo infatti a stati come la Francia o come l'Inghilterra dove le capitali sono quasi città-stato e al di fuori c'è molto meno in Italia no c'è un tessuto urbano vivace e città che sono molto attive anche dai piccoli centri italiani culturalmente sono attivi dunque vi citavo Virginia Cox perché la riscoperta lo studio di questi testi letterari delle donne è avvenuta soprattutto in ambito accademico non italiano anzi in Italia siamo indietro rispetto a quello che è successo all'estero e un libro come la Cox che è quello che vedete come quello della Cox che è quello che vedete in alto a sinistra che ricostruisce proprio la storia della scrittura femminile dal 1400 al 1650 quindi in tutta l'epoca moderna poi la Cox è anche tornata ha ampliato questo discorso però quello è il libro fondamentale nasce perché c'è una lunga tradizione nel mondo anglofono di studi di questo tipo di studi sulla cultura delle donne quindi prima i women's studies e poi i gender studies cioè anche quegli studi che hanno analizzato il modo in cui il genere entra in gioco nella costruzione del discorso letterario e quindi in Italia invece siamo più indietro il libro quello che vedete in viola è l'ultima edizione e il testo di riferimento in qualche modo per le rime anche di Gasparastampa che è ritornato all'ordinamento della prima edizione delle rime della stampa quella cinquecentesca che l'editore moderno italiano aveva in parte alterato e in Italia non c'è ancora un'edizione come questa e quello di l'altro testo che vedete è sempre della Cox è un'antologia proprio di lirica femminile quindi sono testi commentati e poi ho messo però perché per fortuna qualcosa c'è insomma questa antologia molto pregevole liriche del cinquecento che è uscita nel 2014 a cura di Monica Farnetti e Laura Fortini dove sono di nuovo liriche appunto autrici quindi c'è questo doppio gioco insomma liriche poetesse liriche poesie con ottimi commenti quindi ve la suggerisco anche diciamo come approfondimento eventualmente se uno volesse poi continuare questi approfondire questi studi l'ultima cosa che volevo dire a proposito proprio della riscoperta dei testi delle donne che avviene a partire dagli anni settanta ottanta e che è ancora in corso ovviamente cioè diciamo che all'inizio si dava quasi per scontato in qualche modo che ci fosse stato un come dire un'ostilità da parte dell'establishment letterario maschile nei confronti della produzione delle donne la tendenza invece è stata poi quando si è andate ad analizzare più da vicino anche i contesti editoriali che hanno portato alla pubblicazione di rime femminili di vedere invece quali fossero le sinergie va bene cioè il rinascimento appare dal punto di vista letterario chiaramente perché poi in altri ambiti la situazione e la storia delle donne è anche ben diversa però in ambito letterario c'è una cioè nella cultura veramente le donne fanno grandi progressi perché spesso c'è un ambiente intorno a loro che è favorevole a questa presenza una si parla proprio di filogenia in qualche modo quindi con diverse gradazioni ma questo è indubbio e un caso che volevo richiamare per esempio è non lo so già non l'avevo citato prima ma la colonna e la gambara sono celebrate come poetesse già nel 1532 nella terza edizione del Furioso quindi anche prima che i loro testi fossero pubblicati a stampa e Ariosto proprio sceglie la colonna quale esempio di donna poetessa del suo tempo oppure Bembo nella seconda edizione delle sue rime dove include alcuni testi di altri poeti ovviamente rigorosamente selezionati inserisce i testi della colonna e della gambara scambia continuamente rime con loro scambia lettere quindi siamo a livelli molto alti ovviamente sia sociali che siamo proprio l'elite della cultura però poi questa apertura nei confronti delle donne probabilmente si irradia anche alla cultura mezzana e viene recepita ci sono trattati in onore della nobiltà dell'eccellenza delle donne quindi le rime delle donne trovano spazio in pubblicazioni avete visto autonome quindi questo va tenuto presente e come esempio e su cui vorrei chiudere anche questa prima parte anche perché vorrei tornare un momento a Bembo perché è una figura centrale anche per gli studi chiaramente sul petriarchismo e la cultura del Cinquecento qui siamo ho trovato questo brano all'inizio del terzo libro degli Asolani il dialogo sull'amore che Bembo pubblica nel 1505 la prima edizione e qui si parla Bembo sta parlando del problema della verità perché al di là è un dialogo sull'amore certo e le donne sono spesso chiamate in causa quando si parla di amore più facilmente che rispetto ad altri temi però qui la questione in gioco è la verità e allora Bembo scrive quantunque io stimo che saranno molti che mi biasimeranno in ciò che io alla parte di queste investigazioni le donne chiami alle quali più si acconvenga negli uffici delle donne dimorarsi che andare di queste cose cercando la verità sempre dei quali tuttavia non mi cale perciò che se essi non niegano che alle donne nell'animo altresì come agli uomini sia dato non so io perché più ad esse che a noi si disdica il cercare che cosa egli sia che si debba per lui fuggire che seguitare e sono queste tra le meno aperte questioni e quelle per avventura dintorno alle quali siccome a perni tutte le scienze si volgono che se esse tutta volta quegli uffici che diranno quei tali esseri di donna le loro convenevoli dimore non togliendo negli studi delle lettere e in queste cognizioni dei loro ozioni altra parte consumeranno quello che al quanti uomini di ciò ragionino non è da curare perciò che il mondo il loro loda ne ragionerà quando che sia quindi questa è una posizione forte insomma una rivendicazione da parte maschile di una parità che siamo tutti dotati di anima abbiamo tutti il diritto di fare le stesse ricerche le stesse speculazioni intellettuali quindi da tenere presente ovviamente sempre senza ovviamente occultare quelle che erano delle difficoltà oggettive su cui poi tra l'altro verrò in primis anche sull'acquisizione proprio della cultura e dell'educazione che era riservata alle donne bene venendo quindi alla seconda parte è interessante vedere anche qual è stato il percorso che ha portato alla riscoperta di questi testi o comunque alla loro ripubblicazione nel corso del tempo e dunque diciamo che nel 600 ovviamente il petrarchismo a livello proprio di diciamo lo sperimentalismo barocco è molto lontano da e guardo qui Alessandro perché che studia queste cose chiaramente non non c'era molto interesse ma le cose cambiano con quando diciamo la fine del 600 e del 700 e soprattutto con l'arcadia con quella sorta di ritorno all'ordine che è rappresentato dall'arcadia dal classicismo a una poesia che è lontana dagli eccessi e quindi torna anche a guardare alla lirica petrarchista come a un ideale stilistico a cui rifarsi e proprio con l'arcadia tra l'altro si assiste ad una nuova fioritura di donne poetesse che compaiono con frequenza che dovette segnare profondamente anche la cultura del tempo perché pensiamo per esempio al romanzo di Madame de Stey Corinne Ulitaly dove proprio la protagonista che in qualche modo si incarna è una rappresentazione dello spirito italiano è modellata probabilmente su una poetessa arcade e comunque è appunto una poetessa un'improvvisatrice una musicista quindi è una figura di arcade e queste donne sono da una parte legate fra di loro e poi sono caratterizzate da un fenomeno diciamo da un tipo di unione femminile che è stata chiamata sorellanza arcadica per cui sono in contatto fra di loro si promuovono anche come scrittrici e tendono anche a recuperare figure del passato figure di donne del passato che vengono rilette riattualizzate anche un po' alla ricerca di antenate che le legittimino nella loro avventura intellettuale e una di queste poetesse scrittrici è Luisa Bergalli che nel 1726 cura un'antologia importante perché è la prima antologia di testi femminili curata da una donna ed è un'antologia monumentale cioè sono testi di più di 250 poetesse dal 200 al 700 e diciamo un'operazione molto interessante su cui ha riportato l'attenzione un po' da anni orsono Adriana Chemello e Bergalli diciamo è legata anche ad un'altra iniziativa che a noi interessa da vicino cioè nel 1738 vengono ripubblicate per la prima volta le rime della stampa che erano comparse per la prima volta nel 1554 adesso poi ci arrivo con più calma postume e non erano state più ristampate e qui devo fare anche una una breve sì diciamo passiamo un po' alla stampa vi faccio vedere soltanto che a breve diciamo sulla scia di questo recupero di testi femminili a breve distanza vengono ripubblicate anche le rime e le lettere di Veronica Gambara anzi questa è la prima edizione autonoma dei loro testi che badate diciamo per le lettere è tuttora il testo di riferimento perché non c'è un'edizione attendibile moderna insomma ce ne sono altre ottocentesche ma il testo di riferimento è ancora questo di Rizzardi del 1759 e poi vengono ripubblicate anche le rime della colonna no per la colonna la situazione è migliore vi dicevo le rime della stampa allora questa che vi mostro qui è la è la prima edizione l'edizio Princeps che viene pubblicata a Venezia nel 1554 l'immagine che vedete sulla pagina di sinistra non è coeva c'è un'immagine che è stata incollata questo è l'esemplare della biblioteca civica di Padova e adesso vedrete da dove deriva vi dicevo quindi le rime che hanno vi faccio vedere adesso ecco questa è una la struttura è una raccolta abbastanza ampia sono 310 componimenti suddivisi in una prima parte di un canzoniere amoroso una seconda di componimenti d'occasione quindi in cui la stampa si rivolge o parla di certi eventi oppure si rivolge ad altri personaggi che hanno una chiusa spirituale religiosa spirituale questo è importante perché la stampa è nota soprattutto giustamente anche perché è l'ispirazione preponderante del suo canzoniere come poetessa d'amore però ci sono anche testi di religiosi e di pentimento e poi ci sono due sezioni suddivise su base metrica capitoli appunto e madrigali ora vi dicevo il canzoniere amoroso è la parte più importante anche quella giustamente più famosa perché che narra la vicenda dell'infelice storia d'amore che legò la poetessa al gentiluomo trevigiano collaltino di collalto che era un aristocratico di antico lignaggio proveniva da questa famiglia della marca trevigiana molto potente e importante mecenate di artisti poeta e gli stesso con il quale la stampa intrecciò una relazione che durò dal 1548 al 1551 stando a quanto ci dice lei stessa nelle rime insomma la datazione la ricostruiamo proprio dal canzoniere e il convolgimento emotivo dei due protagonisti fu però molto diverso perché la stampa ebbe un sentimento sempre saldo così si dipinge chiaramente nelle rime come amante fedele e incrollabile invece con l'altino insomma aveva un contenio altalenante prevalentemente freddo distaccato e poi insomma diciamo la storia finisce la poetessa viene abbandonata è importante però ricordare anche che nel canzoniere non è solo narrata questa storia d'amore ma sulle ceneri sopite di questo amore che diciamo la stampa non dimentica mai però rinasce una seconda passione quindi qui andiamo in deroga rispetto anche al modello del canzoniere di Petrarca come modello di canzoniere per un unico amore cioè la stampa narra più esperienze amorose le tematizza chiaramente ora quest'opera prima diciamo veniamo alla fortuna poi torneremo ai testi ha una storia singolare perché si interessa della sua ripubblicazione un discendente del conte collaltino di collalto cioè Antonio Rambaldo di collalto membro di questa famiglia che è tuttora molto attiva poi dopo vi faccio vedere anche qualche altra immagine che diciamo con intento encomiastico della propria famiglia della propria casata siccome la stampa aveva cantato in maniera così straordinaria questo suo antenato fa ripubblicare e finanzia lui l'edizione delle rime affidandone le cure alla Bergalli che già vi nominavo e ad Apostolo Zeno il grande erudito veneziano che quindi ripubblicano i testi anche rintracciano molti documenti sulla stampa sui collalto e vi faccio vedere l'edizione che è un'edizione di pregio insomma un'edizione bella e con questi due ritratti bellissimi su cui adesso non ho tempo di fermarmi ma sono due incisioni di un'allieva di Rosalba Carriera sono belle incisioni che deriverebbero da due ritratti di Collaltino probabilmente un ritratto di Tiziano che però risulta perduto e quello della stampa invece si dice da un originale del Guercino ora però come Guercino abbia potuto ritrarre la stampa visto che è un pittore più tardo non sappiamo bene adesso ecco non ho tempo di soffermarmi però vedete l'intento celebrativo forte che emerge subito cioè porre anche queste incisioni all'interno del testo è significativo e Rambaldo oltre a far ripubblicare i testi inserisce in questa edizione settecentesca anche un medaglione biografico in cui diciamo racconta la storia della stampa e che cosa dice dice che la stampa era una nobile donna di origini milanesi cosa che non era vera perché come già vi anticipavo poi ci torneremo la stampa era di origini borghesi dice che la stampa morì in seguito all'abbandono del conte di Collalto quindi qui fa fare anche una bruttissima figura al suo antenato però ci dice questo cosa che però anche questa non è vera perché la storia appunto come vi dicevo finisce nel 51 ma la stampa morì nel 54 probabilmente non ci fu una relazione tra i due eventi e poi riportava la notizia anche secondo cui la stampa forse sarebbe morta per avvelenamento probabilmente quindi suicida quindi ci sono due linee di recupero cioè da una parte si ripubblicano i testi della stampa l'edizione anche settecentesca filologicamente è accurata insomma è buona e da una parte però comincia la mitizzazione della figura della stampa che diventa nell'ottocento una eroina romantica consumata anzitempo da una passione impossibile sulla base di questo medaglione biografico che era stato fornito da Rambaldo e vi faccio vedere soltanto alcuni esempi questo è un testo di Luigi Carrera che era letterato insomma comunque di rilievo perché è il primo biografo di Goldoni di Foscolo che scrive nel 1838 un'opera che si intitola Anello di sette gemme o Venezia e la sua storia considerazioni e fantasie in cui inserisce una biografia romanzata della stampa all'interno di un quest'opera in cui sono raccolti i profili di sette donne illustri della società della storia diciamo della cultura veneziana e questo testo appunto il testo dedicato alla stampa è svolto in forma epistolare e l'editrice moderna ha parlato di una dice che queste sono come le ha chiamate ultime lettere di Gasparastampa perché in pratica è il modello dell'Ortis che viene a Galla e quindi il romanzo di Carrère è proprio debitore del modello foscoliano sia dal punto di vista formale perché abbiamo la ripresa appunto del romanzo epistolare sia dal punto di vista contenutistico perché abbiamo diciamo l'ipersensibilità del personaggio principale un insanabile dissidio tra reale e ideale che quindi avvicinano molto la figura della stampa come è raccontata e creata e romanzata da Carrère alla figura di Jacopo qui vi ho riportato una citazione adesso non la leggerò però mi faceva piacere lasciarvela poi eventualmente in cui poi si vede proprio come Carrère si sia ispirato chiaramente alle lettere alle ultime lettere insomma all'opera di Foscolo tra l'altro inventandosi anche la la storia di un manoscritto che lui avrebbe ritrovato con delle lettere rivolte dalla stampa ad un'amica l'amica Mirtilla che lui quindi avrebbe voluto pubblicare questo all'interno di questo romanzo assistiamo anche ad un'altra diciamo avvicinamento o comunque accostamento cioè quello tra la stampa e la figura di Saffo perché la stampa diventa quindi come vi dicevo come personaggio letterario una eroina d'amore qui in questo caso si riprende la Saffo ovidiana cioè la Saffo innamorata non corrisposta insomma infelice di Faune che poi si suicida e ci sono dei drammi proprio dedicati alla stampa ottocenteschi che si intitolano la Saffo italiana e vi ho riportato qui un altro esempio su cui non mi soffermo più di tanto perché poi il testo è anche un poemetto in indica sillabi sciolti di questo Giovanni Fontebassom che non è dire minore dire poco forse minimo però è interessante vedere come ci sia questa fortuna soprattutto in ambito veneto tra l'altro quindi c'è un recupero municipale se vogliamo di interesse locale per queste figure che avviene soprattutto in ambito teatrale cioè nascono dei drammi perché chiaramente la storia si prestava molto al recupero proprio drammatico e qui vedete vi ho evidenziato in giallo mi spiace che si veda male rispetto al bianco ma questo Fontebassom cosa fa? riprende quei versi che vi ho evidenziato appunto sono ripresi dalla traduzione che Foscolo aveva fatto del frammento 31 di Saffo il celebre frammento in cui lei descrive gli effetti della vicinanza dell'amato quindi possiamo anche leggere un indistinto tintinio mingombra gli orecchi e sogno spaventevo il sogno e tutta molle ed un sudor di gelo e smorta in viso come erba che langue tremo e fremo di brividi quindi proprio c'è un ventrilo qua quasi la stampa che parla con i versi di Saffo tradotti da Foscolo insomma però è significativo di questa ripresa da ultimo per concludere questa diciamo seconda parte sul recupero diciamo che il recupero critico vero e proprio di queste poetesse avviene tra la fine dell'Ottocento ma soprattutto all'inizio del Novecento e in particolare tramite anche la figura di Benedetto Croce nel caso della stampa però vi dico subito che anzi vi invito anche ad immaginare che a fronte della nobilitazione della mitizzazione romantica della grande nobilitazione che ne era stata fatta nell'edizione settecentesca cura di Rambaldo l'effetto che poteva fare quando a inizio Novecento uscirono gli articoli di Abdel Kader Salsa che rovesciò questa icona romantica di cui vi parlavo prima in quella di una cortigiana perché Salsa portando diciamo interpretando anche con un moralismo che oggi ci pare anacronistico però con un dovizia di documenti intese di mostrare insomma che la stampa fosse stata in realtà una cortigiana ora questa il problema rimane aperto nel senso che di Tullia d'Aragona siamo certi Veronica Franco siamo certi per la stampa no è chiaro che la stampa abbia vissuto da irregolare perché da borghese a questa storia d'amore con Collattino di Collalto che era un nobile che poi la lascia per sposarsi con un'altra donna è stato ritrovato il testamento della sorella della stampa che ci dice che la stampa aveva avuto due figlie probabilmente da una relazione precedente ma gli studi più recenti anche la mia posizione è che io adesso ancora non vi ho parlato molto della sua biografia però la stampa si fa conoscere a Venezia alla metà degli anni 40 del 500 ancora prima che come poetessa come musicista di musicista e cantante quindi non è escluso anzi è probabile che la stampa fosse una performer potremmo dire musicale di alto livello e che attiva in quei salotti cosiddetti ridotti che a Venezia erano dei punti di aggregazione dell'elite cittadina e che erano molto diffusi anche proprio in una città come Venezia che era priva di un nucleo accentratore come poteva essere la corte quindi in cui questi salotti e queste occasioni mondane erano molto diffuse e varie comunque poi adesso magari su questo poi torniamo dopo volevo concludere questa parte sul recupero critico con Benedetto Croce per diciamo farvi notare alcuni aspetti anche di come sono stati riletti all'inizio i testi delle poetesse cioè innanzitutto diciamo che i lavori benemeriti di Croce che hanno anche superato lo stigma che c'era nei confronti del petrarchismo sia maschile che femminile nell'ottocento chiaramente il petrarchismo non era gradito cioè c'è un celebre saggio di Arturo Graff che comincia petrarchismo e antipetrarchismo che comincia dicendo il petrarchismo è la malattia storica della letteratura italiana si parlava dei petrarchisti come di turba di poetastri nati in ira alle muse quindi c'è stato uno stigma forte nei confronti di questa poesia di cui per cui di cui hanno risentito poi anche le poetesse che in quello stile avevano scritto ma nel caso delle poetesse siamo di fronte anche ad altro e leggiamo e poi magari commentiamo sentiamo cosa dice Croce a proposito della stampa allora fu donna e di solito la donna quando non si da scimiottare l'uomo si serve della poesia sottomettendola ai suoi affetti amando il proprio amante o i propri figli più della poesia l'indole pratica della donna si discopre in questa scarsa potenza teoretica e contemplatrice e ancora quello sotto è un giudizio analogo insomma adesso non mi soffermo questo altro giudizio di Croce sulla poesia di Isabella di Morra che è una poetessa che deve tantissimo a Croce agli studi di Croce questa immediatezza passionale questo abbandono al sentimento è la virtù della migliore poesia femminile e ne è anche l'ordinario limite perché finisce con l'aderire pienamente alla vita vissuta senza salire alla superiore contemplazione e all'alto rasserenamento qui ci sarebbe da insomma discutere molto però cioè siamo di fronte a una sorta di imbarazzo quasi della cultura maschile cioè nei confronti della poesia delle donne che non viene ritenuta in grado di elevarsi al pari di quella dei colleghi uomini questo va detto e questo è andato anche di pari passo con una sorta di è stato chiamato anche giustamente un po' un riduzionismo autobiografico cioè mentre per i petrarchisti si diceva vabbè nella loro poesia è tutta forma niente sostanza quindi poi che avranno voluto dire boh non si sa cioè appunto forse anche meno rilevante per le donne invece c'è stata un'attenzione quasi morbosa anche appunto alla loro biografia ai loro amori alle loro passioni e i loro testi sono stati letti con minore attenzione cioè i modelli letterari quindi l'analisi poi stilistica quello che ci interessa davvero a noi come critici come studiosi di letteratura cioè la qualità dei testi e la cultura di queste poetesse è finita a lungo per passare in secondo piano però questa è stata una tendenza diciamo iniziale e anche ripeto di un critico di cui non si può dire che come croce insomma quindi era un pregiudizio diciamo maschilista forse prima ancora che crociano che però già negli anni 50 ci si avviava a superare e volevo leggere mi faceva piacere anche in queste aule quello che diceva già Luigi Russo nel 1958 riferendosi anche alla polemica appunto Gasparastampa cortigiana non cortigiana perché c'è un profluvio di letteratura su questo quindi tanti critici che poi hanno scritto saggi in difesa di Gasparastampa proprio con questi titoli dopo 40 anni dobbiamo confessare che noi siamo lontanissimi e dai detrattori e dai partigiani della nostra poetessa Gasparastampa a noi interessa non quale alunna d'amore quasi che l'amore non sia una passione eternamente ricorrente nel mondo ma quale alunna del Petrarca e di Pietro Bembo la letteratura l'arte poetica l'esercizio del rimare nel 500 erano un galateo sociale e i rimatori e sonettisti di quel secolo non sono degli oziosi ripetitori di Petrarca ma creano e sviluppano i moduli petrarcheschi in una nuova atmosfera storica che diciamo scritte 60 anni fa però queste parole sono ancora quello che pensiamo noi tuttora adesso e quindi c'è un recupero sia di una diciamo visione attenta e critica dei testi e anche un recupero del petrarchismo come appunto fenomeno letterario in sé quindi diciamo che quello che veramente adesso ci interessa sono la cultura i modelli di riferimento le modalità dell'adattamento insomma effettuata dalle donne della poesia e va bene su questa parte direi che abbiamo questa seconda parte basta poi eventualmente ci torniamo con qualche commento e veniamo quindi alla poesia della stampa dicendo che richiamo soltanto qualche dato biografico e poi passo ad analizzare alcuni testi che ho scelto anche pensando a quelli che si potrebbero poi veramente proporre in classe quindi la mia scelta è stata basata su quello allora per quanto riguarda la biografia la biografia della stampa è scusate bevo magari bisogna un attimo scusate è una biografia abbastanza misteriosa cioè i dati d'archivio sì documenti d'archivio sulla stampa sono pochissimi una delle poche cose che sappiamo che ci diceva la stessa poetessa nelle sue rime ma abbiamo trovato anche documenti che lo confermano è che la stampa è nata a Padova nacque a Padova probabilmente nel 1523 e qui vi faccio vedere la piazza padovana di Prato della Valle questo invaso insomma questo sì c'è un parco e poi questo invaso che viene realizzata alla fine del settecento e in cui io non so spero si veda sì ci sono intorno appunto alla piazza le statue di 78 personaggi che hanno dato lustro alla città di Padova e l'unica donna raffigurata e guardate come tra l'altro cioè ai piedi del basamento ai piedi di un'altra figura quindi non in un basamento autonomo è Gasparastampa sì poi anche su questo potremmo discutere che non so se ridere o piangere ma è così e la stampa dove compare chi è l'uomo che la sovrasta che incombe su di lei è la statua dello scultore Andrea Brioschi Brioschi e quindi all'inizio mi interrogavo molto ma proprio perché che c'entra Andrea Brioschi poi in realtà è venuto fuori più recentemente che insomma il padre della stampa Bartolomeo Stampa di cui i documenti parlano come gioielliere o orefice ma sarà da intendere più come orefice cioè come un artigiano proprio qualcuno che lavora a Iori è noto che avesse avuto avesse fondato una società con Antonio Minelli che era uno scultore padovano cioè ci sono dei contatti precoci della famiglia stampa con il mondo degli artisti a cui penso si possa ricondurre anche questa scelta di porre la stampa lì sotto Andrea Briosco ma questo ancora è da indagare meglio spero di poterlo fare io presto e Minelli era uno scultore importante il padre era stato capocantiere della ricostruzione della cappella dell'arca nella basilica di Sant'Antonio quindi parliamo di figure di primo piano della vicenda artistica locale probabilmente si trattava di una famiglia agiata perché appunto lo stampa crea questa società e lui si limita sostanzialmente comunque a mettere i soldi ecco in sostanza dai documenti emerge questo e lo dico perché quando parliamo anche delle donne scrittrici è importante sempre chiederci come siano riuscite ad accedere alla cultura ora è chiaro che ai livelli sociali più elevati la cultura a cui potevano ambire le bambine era analoga a quella dei maschi è stato dimostrato cioè nelle famiglie aristocratiche c'era un cursus particolare ovviamente ma volendo le donne incontravano meno difficoltà negli strati sociali più scendiamo e più le cose si fanno complicate quindi nel caso della stampa è probabile che insomma ci sia stata una famiglia illuminata dietro e la stampa aveva una sorella e un fratello più o meno tutti e tre coetanei e il fratello probabilmente frequentò anche l'università a Padova quindi c'è da considerare che insomma probabilmente tutti e tre arrivarono a distruirsi in maniera approfondita e vi voglio leggere a questo proposito un brano di Stefano Guazzo tratto dalla Civil Conversazione che insieme al cortegiano e al diciamo al Galateo è uno dei testi istitutivi della tradizione rinascimentale e post rinascimentale dei libri sul comportamento e in cui sull'educazione ci dà un'informazione importante questo è un brano che ho tratto da un libro di Elena Sanson che si intitola Donne precettistiche e lingua che analizza proprio anche quello che i trattati anche prescrivevano per lo studio delle ragazze e dice Guazzo oggi di sono tanto diverse le maniere che si tengono nell'allevarle non dico solamente da un paese all'altro ma nel distretto di un solo paese e di una sola città che non vi si può dare una determinata regola con ciò sia che alcuni padri non vogliono che le figliuole pongano il pie fuori di casa più di una volta o due l'anno nelle feste solenni alcuni le fanno comparire ogni giorno non che in casa fra parenti e amici ma fuori alle visite alle feste e a conviti alcuni le fanno ammaestrare nel leggere nello scrivere nella poesia nella musica e nella pittura altri a niente più le avezzano che alla conocchia e al governo della casa parvi ora che in queste diversità di vita e di costumi sia possibile introdurre una sola legge ed è un brano ricchissimo che ci fa capire come appunto innanzitutto per le bambine per le donne ci fosse un po' anche l'arbitrio dei padri cioè bisognava sperare che ci fosse qualcuno appunto illuminato che decidesse di permettere loro di coltivare i propri talenti perché altrimenti le bambine non andavano nemmeno alle scuole di grammatica vi dicevo la formazione umanistica di cui parlavamo all'inizio tendenzialmente non ci arrivavano perché la sfera delle donne era la sfera quella casalinga quindi pratica per cui anche il latino che serviva soprattutto per la vita pubblica per le donne non veniva ritenuto importante quindi la ricchezza della famiglia la classe sociale l'inclinazione paterna erano fondamentali paterna o materna perché nel caso della stampa il padre probabilmente no sicuramente anzi morì prima del 1529 quindi si parla della mamma di Gaspara Cecilia come relicta vedova già a quell'epoca quindi fu la madre che si occupò di non sappiamo come che si trasferì da Padova a Venezia probabilmente con i figli e si occupò della loro educazione e mi veniva in mente siccome vi citavo un fratello più coetaneo di Gaspara c'è un brano tratto molto bello di un'altra scrittice veneziana veneziana in realtà però la stampa io faccio fatica padovana ma anche veneziana in fondo perché poi la sua vita si è svolta prevalentemente a Venezia è un brano di moderata fonte tratto nel merito delle donne che è uno dei primi testi anche femministi c'è un trattato un dialogo che rivendica appunto la superiorità del genere femminile in cui nella biografia dell'autrice di moderata si racconta che lei non vedeva l'ora che tornasse il fratellino dalla scuola di grammatica che gli raccontava tutto quello che lui aveva fatto e alla fine lei era così entusiasta che fece molto più profitto di lui ci dice il biografo quindi può darsi anche che per la stampa fosse così insomma comunque in relazione a questo poi torno alla stampa ma vi volevo far vedere anche altri casi nel mondo delle arti però insomma non così differenti di due perché nel Cinquecento assistiamo anche a non sono solo le scrittrici a comparire sulla scena letteraria ma anche tante alcune artiste tra cui Sofonismo Anguissola e Marietta Robusti Sofonismo Anguissola anche per lei fu determinante la famiglia insomma proveniva da una nobile famiglia di Cremona e fu il padre che la volle educare e le fece sviluppare anche il talento che aveva nella pittura e poi le fonti ci parlano anche di Marietta Robusti la figlia amatissima ci raccontano di Tintoretto che il padre si portava in bottega e spesso in giro per Venezia travestita anche da maschio perché questo la rendeva più libera appunto di muoversi quindi probabilmente c'è stato questo mi faceva piacere insomma trattare anche questo tema perché vi dicevo questi testi poi si portano dietro anche delle donne delle tematiche trasversali che si possono trattare anche in classe proprio sul problema dell'educazione femminile perché adesso magari le classi ovviamente sono miste diamo per scontate delle cose noi e ancora di più i ragazzi che invece sono state conquistate col tempo e veniamo quindi ai testi perché questa è l'ultima l'ultima parte ma sì mi sembra che ci siamo anche con i tempi vi dicevo ve ne propongo tre e sono i primi tre testi del canzoniere della stampa che in qualche modo mi sembra condensino alcuni aspetti fondamentali anche della sua ispirazione poetica e che ci fanno anche pensare che benché la stampa come vi dicevo le sue rime siano state pubblicate postume è altamente probabile che la stampa stesse pensando a una pubblicazione insomma cioè le sue rime sono strutturate in una forma come vi dicevo anche prima di canzoniere quindi c'è una progressione narrativa c'è una storia che si sviluppa nel tempo la storia con Collaltino c'è un inizio ci sono le partenze i continui allontanamenti di lui che combatteva come condottiero di Enrico II quindi prima in Francia poi alla Mirandola quindi si allontana per varie battaglie e ci sono anche i viaggi i tragitti che la stampa compie da Venezia per raggiungere San Salvatore di Collalto la sua diciamo i suoi feudi nel Trevigiano che poi anche vi mostrerò e allora veniamo quindi al primo testo su cui si apre il canzoniere ve lo leggo e poi ci facciamo qualche osservazione voi che ascoltate me lo metto ecco voi che ascoltate è quasi voi che ascoltate in queste meste rime in questi mesti in questi oscuri accenti il suon degli amorosi miei lamenti e delle pene mie tra l'altre prime ove fia chi valore apprezzi e stime gloria nonché perdone miei lamenti spero trovare fra le bennate genti poiché la loro cagione è sì sublime e spero ancora che debba dir qualcuna felicissima lei da che sostenne per si chiara cagione danno si chiaro dè perché tanta amor tanta fortuna per si nobile signor a me non venne che anch'io n'andrei con tanta donna a paro e sentivo appunto qui qualcuno che diceva voi che ascoltate il rime sparse il suono e ve lo metto subito così diciamo questo della stampa è in assoluto il sonetto più scopertamente allusivo al modello petrarchesco per mia conoscenza insomma di tutta la lirica cinquecentesca non ce n'è un altro così chiaramente che richiami così chiaramente insomma il testo premiale del canzoniere le analogie formali sono talmente evidenti che non mi ci soffermo mi ci soffermerò brevemente insomma l'apostrofe ai lettori con l'invito ad ascoltare il fatto che oggetto di iniziale presentazione siano le rime e la stampa pone subito l'accento però le rime non sono tanto sparse ma sono meste perché diciamo la stampa insiste subito sulla natura elegiaca del suo dettato sul fatto che questa storia d'amore è contrastata è tormentata è mal corrisposta e quindi c'è una meticolosa trasposizione di frammenti petrarcheschi che evidenzia però anche subito con le parole di Baldacci la volontà condivisa con Petrarca di istituire un romanzo esemplare della propria vita e del proprio amore però al di sotto di questa patina imitativa fin quasi pedisse qua la poetessa introduce dei mutamenti semantici decisivi che avrete già notato perché e ve li ho segnalati in qualche modo un po' con i colori spero non si vedano tantissimo ma Petrarca lo sappiamo benissimo pone la sua esperienza sotto il segno la sua esperienza amorosa passata sotto il segno della vanitas quindi le vani e speranze il vandolore il suo vaneggiare e la stampa è aliena da qualsiasi motivo di pentimento non compie alcun tentativo di distanziare da sé la propria passione che anzi diventa per lei come espresso in maniera molto forte nelle terzine finali ma anche in quella rivendicazione di gloria all'inizio del verso 6 uno strumento di auto celebrazione con le parole di Maria Puglia Mussini Sacchi quella che Gaspara ci prospetta fin dall'inizio non è la storia dell'evoluzione spirituale della sua anima o di un ripensamento della sua vita è invece la storia di un amore infelice di cui la poetessa non può fare a meno ben lontana da ritenersi favola del popolo tutto essa si sente invece a tal punto gratificata dalla misura della sua passione da avvertire intorno a sé l'invidia delle altre donne per la tanta fortuna che le è toccata e quindi infatti la seconda fondamentale variazione rispetto al modello petrarchesco è proprio il rovesciamento del tema della fabula Vulgi in questo vanto per questa esperienza d'amore straordinaria per cui la stampa spera addirittura di essere invidiata da una donna ancora di là da venire che si confronti con la sua storia molto importante è anche lo spazio assegnato all'oggetto d'amore perché la stampa dice per si chiara cagion per si nobil signor io ho potuto sperimentare questo mentre nel testo di Petrarca Laura che pure figura così centrale nel suo canzoniere no, non c'è in realtà perché l'autore è tutto concentrato sul suo percorso interiore di palinodia e di ritrattazione quindi è tutto concentrato sull'io dello scrivente il discorso e questo è un gioco di rovesciamenti che continua anche nel secondo sonetto della stampa che è una trasposizione invece del sonetto tre del canzoniere quindi nel sonetto di innamoramento e anche questo lo leggiamo era vicino il dì che il creatore che nell'altezza sua poteva restarsi in forma umana venne a dimostrarsi dal ventre virginal uscendo fuori quando degnò l'illustre mio signore per cui ho tanti poi lamenti sparsi potendo il luogo più alto annidarsi farsi nido e ricetto del mio cuore ondio si rara e si alta ventura col si lieta ed uol mi sol che tardi mi fedegna di lei l'eterna cura da indi in qua pensieri e speme e sguardi volsi a lui tutti fuor d'ogni misura chiaro e gentil quanto il sol giri e guardi ora qui nel secondo sonetto e qui sempre mi spiace che con riflesso insomma non si veda benissimo comunque il rovesciamento è proprio non lo so diciamo come sapete Petrarca colloca il giorno dell'innamoramento nel venerdì santo no? esattamente quindi il giorno calzò il siscollo raro per la pietà nel suo fattore i rai perché con questo Petrarca evidenzia fin da subito che diciamo Petrarca sovrappone la propria vicenda personale ad un momento simbolico di caduta e di colpa dell'umanità e quindi marchia la sua esperienza amorosa sotto il segno del peccato cristiano la stampa che giorno sceglie non proprio il giorno il Natale non proprio il giorno ma insomma il periodo potremmo dire anche l'Avvento era vicino il D quindi siamo nell'autunno vicino al Natale del 48 e quindi con proprio la scelta del momento antitetico la vita la nascita e la morte del Salvatore e quindi allaccia il ricordo della passione sorgiva a un momento calendariale antitetico a quello di Petrarca ribadendo in qualche modo che quindi l'amore non è uno sviamento ma è un dono ricevuto con gratuità alla pari di quello offerto da Cristo al genere umano un vero e proprio regalo indicato dalla poetessa attraverso il sintagma si rara e si alta ventura con cui viene richiamata la tanta fortuna del primo sonetto quindi in questi due testi questi due testi penso funzionerebbero anche in classe perché voglio dire avendo studiato Petrarca insomma i ragazzi potrebbero da soli poi trovare le differenze e farci le loro riflessioni l'ultimo testo che vi propongo è il terzo perché il terzo è altrettanto fondamentale è uno dei miei preferiti forse il mio preferito in assoluto non lo so in cui diciamo la poesia della stampa è per gran parte celebrazione della capacità cioè di quello che l'amore riesce a compiere a fare delle persone questa è la lettura che ha anche dato in quella che è l'unica monografia italiana attuale su Gasparastampa di Monica Farnetti che è uscita due anni fa sì nel 2017 che si intitola Dolce e ridente la scoperta di Gasparastampa dove per scoperta la Farnetti intende la scoperta di quello che l'amore ti porta a fare cioè come elevazione come conoscenza anche di te stesso e delle tue potenzialità e la stampa scrive questo è un po' più complesso il sonetto ma in breve lo sciogliamo insomma se di rozzo pastor di greggie e folle il gioco a screo fe diventar poeta lui che poi salse a silo data meta che quasi a tutti gli altri fama tolle che meraviglia fia salsa ed estolle me basta e vile a scriver tanta pieta quel che può più che studio e che pianeta il mio verde pregiato ed alto colle la cui sacra onorata e fatta l'ombra dal mio cor quasi subita tempesta ogni ignoranza ogni bassezza sgombra questa da basso luogo merge e questa mi rinnova lo stile la vena ad ombra tanta virtù nell'alma ogni ormi desta allora anche qui vi evidenzio con i colori qualcosa perché vedete ci sono delle catene semantiche che si che percorrono il sonetto una relativa al salire all'altezza e l'altra relativa alla posizione in cui si pone Gaspara in qualche modo rispetto all'amato e che cosa dice la stampa nella prima quartina è richiamato il proemio della teogonia il racconto che Esiodo fa all'inizio della teogonia dicendo che da giovane aveva incontrato sulle pendici del monte a loro sacro il monte l'icona che è il gioco ascreo diciamo è il valico che sovrasta l'icona quindi c'è un'evocazione del personaggio a cui si riferisce la prima quartina che appunto nel proemio della teogonia Esiodo che avrebbe preso i Natali appunto da Ascra racconta di aver incontrato sul monte a loro sacro le muse che avrebbero allora infuso a lui semplice pastore la capacità di narrare le origini di tutti gli dèi trasformandolo da semplice pastore avate allora la stampa che cosa fa a partire dal cognome pensate collaltino di collalto e anche di cui curiosamente tra l'altro il nome è un diminutivo collaltino di collalto diciamo collaltino di collalto diventa il colle alto quindi crea un segnal analogamente a quello che fa Petrarca con Laura diventa il colle alto oppure l'altocolle con inversione del sostantivo e dell'aggettivo in cui viene scomposto il nome proprio evocato dalla poetessa quale sede della sua vena lirica cioè secondo uno studiato parallelismo collaltino viene ad assumere per la stampa la stessa funzione che altri celebri colli alti della poesia il parnaso l'elicona rivestono tradizionalmente per i poeti quindi con il segnal che compare al verso 8 e che compare anche in altri testi che vi faccio vedere la poetessa diciamo condensa una serie di significati sottesi che vuole dare a questa raffigurazione di lei che si pone in questa posizione bassa e di lui come altocolle perché se guardate nel sonetto 138 e i nomi che dovrebbero essere verdi voi purtroppo la differenza si nota pochissimo ma accanto al segnal che la stampa crea per l'amato lei si dà anche un nome d'arte anassilla uno pseudonimo diciamo con cui compare all'interno delle rime e anassilla è un nome che deriva da uno dei nomi latini del piave perché il piave si chiama anche plavis però era noto anche come anaxum e perché il piave perché il piave è tuttora il fiume che lambisce il feudo di San Salvatore di Collalto cioè vi dicevo delle terre trevigiane il fiume che attraversa i feudi dei Collalto quindi dice sacro fiume beato alle cui sponde scorgi l'antico vago ed alto colle perché il fiume guarda verso l'alto verso il colle dove nacque la pianta cogge e stolle al cielo i rami e le famose fronde tu mi dai nome cioè è lei stessa che ce lo dice io ho preso il nome dal piave e attraverso questa simbologia onomastica creata dalla stampa si ricrea il messaggio che è una simbologia proprio della relazione amorosa anche tra i due e quindi dove in questo mi è sempre sembrato diciamo una costruzione retorica densa di una stratificazione di significati simbolici in cui era chiusa anche la differenza sociale che c'era tra la stampa e che non era una donna di nobili origini e con l'alto e vi faccio vedere e su questo chiudo perché quando poi si guardano e volevo parlare proprio del petrarchismo come no dell'incapacità di parlare della vita cioè del petrarchismo tutto forma e niente sostanza questo è il castello di San Salvatore che è veramente su un'altura io mi sono immaginata cioè immaginiamoci anche la stampa che da Venezia da questa sua diciamo raggiungeva i luoghi dell'amato perché lei stessa ce ne parla quindi saliva veramente questo colle e qui non si vede perché c'è il campo diciamo arato però lì c'è il piave e quindi è una realtà geografica che viene proprio trasposta in poesia e questo è proprio il castello purtroppo il castello ormai è un rudere perché si trovava però si trova sulla linea del piave che nella prima guerra mondiale è stato luogo di combattimenti terribili quindi è stata distrutta dagli durante i combattimenti con gli austro-ungarici alla fine della prima guerra mondiale e quindi questo è quello che rimane del castello di Collalto che si visita e tra l'altro è ancora un borgo privato perché è della principessa di Collalto che è tuttora insomma proprietaria e adesso hanno delle tenute fanno un vino famoso insomma c'è anche la cantina Collalto però ecco adesso al di là poi di venire dei giorni nostri però mi piaceva farvi vedere come ecco la poesia riesce veramente a parlare della vita la parola è una trasfigurazione diciamo che sì dell'arte proprio come trasfigurazione simbolica della realtà e del motivo per cui continuiamo a leggere questi testi ancora questi testi ci parlano e quello che poi vogliamo trasmettere o comunque che vogliamo condividere poi con i nostri ragazzi in classe quando leggiamo i testi e quindi io su questo mi fermo e lascio spazio poi alle domande nella seconda parte grazie applausi c'è una pausa un coffee break così potete raccogliere le idee pensare un pochino poi torniamo e potete fare le domande o le osservazioni che ritenete poi ci sarà il laboratorio ricordatevelo ci sono domande stai acceso qualcuno sta rientrando ancora sempre così per rompere il ghiaccio pensando un attimo alla come dicevo durante la segretta serie alla bizzarra ma tutto sommato comprensibile arcata dicotomica bembo croce cioè due aspetti mettiamo personalità culturali grossomodo allo stesso livello come potere come forza come ruolo nella storia della cultura con giudizi così così nettamente distinti ora è chiaro poi appunto per croce come dicevi giustamente si deve parlare di un evidente pregiudizio maschilista prima ancora che di altre posizioni teoriche anche perché poi insomma il suo merito di ricerca di scoperta è in dubbio e per quanto si possa discutere del crocianesimo perlomeno di tanti aspetti della storia letteraria che croce ha avuto il merito di portare alla luce ce ne sono tantissimi mi interessava però magari vedere il posto oltre il giudizio di di russo quindi andando a un dibattito più attuale insomma più attuale dato che come sai da convegni recenti ai quali abbiamo assistito ecco tutto sommato le posizioni culturali si attestano continuano ad attestarsi ancora più ancora sempre su pregiudizi difficili da smontare ora in Italia e fuori ci hai dato quella panoramica ma come siamo messi tecnicamente si può andare avanti come si va avanti si sta andando avanti ci sono resistenze ci sono ancora forze che oltre alle ricerche anglosassoni portano avanti come ci hai mostrato queste ricerche ma le resistenze ci sono non ci sono come siamo messi sì le resistenze ci sono sempre penso proprio anche in ambito accademico diciamo a volte ci sono pregiudizi anche proprio gli studi che si fanno sulle donne a volte sono considerati un po' una nicchia allora sono le donne che studiano le donne perché in effetti sono più studiose che studiosi in generale ad occuparsi di questi percentualmente è così quindi le resistenze ci sono e ci sono anche perché per esempio quando parliamo anche di studi di genere cioè il genere è maschile femminile ci sono tra l'altro uno spettro però restando al maschile e al femminile cioè c'è una preponderanza di studi di genere che però studiano le donne cioè gli studi sulla mascolinità per esempio invece sono minoritari mentre invece dovrebbero essere dovrebbero aumentare dovrebbe aumentare anche quel tipo di studi che non dovrebbero riguardare solo la sfera femminile quindi le resistenze ci sono in ambito ecco io quello che cercavo di ho sintetizzato molto in effetti però di dire è che in ambito letterario cioè per quanto riguarda le scrittrici il discorso che facevo è che ecco forse all'inizio le posizioni erano state un po' estreme in senso non voglio dire vittimistico perché è brutto perché no però insomma come se ci fosse stata di default un'ostilità diciamo nei confronti della produzione lirica o comunque letteraria femminile c'era un famoso saggio del 1977 che ha creato poi un dibattito lungo il saggio di Joan Kelly che si intitolava ma le donne hanno avuto un rinascimento no did women have a renaissance ma in senso ampio cioè è chiaro se parliamo di donne in generale si apre un mare magnum che ovviamente è difficilissimo anche dare una risposta è talmente complessa è differenziata la situazione a livello di appunto di strati sociali di contesti culturali di di nazioni di città che è difficile però al punto in cui ci troviamo oggi dopo l'enorme mole di lavoro che è stato fatto insomma che è stata portata avanti io direi che ecco dal punto di vista culturale questi spazi sono stati ci sono stati dei 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 progressi insomma quindi io le resistenze ci sono sempre ma anche in ambito accademico mi pare che ci siano spazi che dobbiamo difendere ma che che insomma che sono presenti adesso non so se tornando un attimo anche a quel discorso di croce lì è proprio una anche una una come dire una nella società occidentale c'è stato sempre questo binomio natura e cultura no? Allora la donna è sempre stata spostata dalla parte della natura e l'uomo dalla parte della cultura e quindi dobbiamo insistere e continuare a studiare questi testi a studiarli seriamente appunto dimostrando la qualità e lo spessore letterario per dargli quella insomma il giudizio di valore che meritano io penso quindi non so se ho risposto pienamente a se volevi aggiungere qualcosa ancora tu facevo semplicemente dentro di me facevo perché forse c'era qualcosa in più che in realtà anche in una dimensione molto pratica e fattuale ecco ho capito sì pensando si dice il peccato e non il peccatore ma ragionando su delle osservazioni che sono state fatte qui in altri momenti sul sul ruolo delle donne all'interno del canone cioè perché ne parliamo perché ne dobbiamo parlare o esiste un canone e dovremmo attenerci a quello ecco è venuta fuori questa domanda altra volta che mi ha lasciato un po' perplesso perché ancora secondo te anche per quello che che fai che hai visto mi pare che un documento una serie di documenti come quello che ci hai portato che ci hai portato riescano a dimostrare in modo esemplare forse meglio da allora che in tanti altri casi che pure sono nelle antologie ovvero in quel canone fissato che secondo altri non andrebbe non si dovrebbe toccare una serie di fenomeni essenziali all'interno della storia letteraria italiana rinascimentale l'imitazione il problema della lingua come dicevi l'accesso alla lingua il passaggio latino volgare l'intertestualità tutta una serie di fenomeni essenziali che potrebbero essere esemplificati benissimo semplicemente con quei tre sonetti e chissà quanti altri che ci hai fatto vedere perché ancora c'è questa resistenza a mettere ok Gasparastampa nel caso ne parliamo nel caso no rispetto a altri fenomeni che invece forse non sono a mio giudizio così pregnanti così forti e che riescono a esemplificare in modo molto lucido delle tematiche delle linee di ricerca degli aspetti problematici della letteratura primo cinquecentesca secondo cinquecentesca e volendo anche seccentesca era una domanda aspetta perché si continua a dire ancora oggi c'è un cane e bisogna vedere quello quando ci sono invece degli esempi rascurati certo no ma io su questo rilancio la domanda non lo so perché allora noi come insegnanti anche poi non so questo mi piacerebbe conoscere anche l'esperienza vostra insomma cioè siamo vincolati anche un po' e lo dicevamo forse la professoressa diceva l'altra volta cioè il problema di trovare anche i testi da proporre con cui le ragazze per esempio possano forse riconoscersi anche di più perché abbiamo una tradizione che poi anche diciamo va avanti nelle antologie abbiamo certi testi mediamente e quindi e ci troviamo anche in difficoltà quando dobbiamo fare una scelta perché vorremmo parlare di tante cose ma inevitabilmente non si può e allora siamo sì tentati di privilegiare i testi che siamo tranquilli che poi i genitori non si arrabbiano se non abbiamo fatto quell'autore o un altro quindi entrano in gioco anche considerazioni di quel tipo però io penso che in un momento appunto dove le resistenze ci sono sempre anche quegli spazi lo dicevamo anche con Serena l'altra volta avevamo pensato di avere guadagnato e che fossero come dire ormai conquistati per sempre invece vanno difesi e quindi dare voce dare spazio a queste figure penso possa avere una rilevanza anche e soprattutto forse a scuola insomma quindi ampliarlo assolutamente il canone e non considerarlo come una cosa precostituita e immutabile ecco poi ci sono dibattiti enormi proprio sul sul canone in sé però senza entrare in quello io penso che la sfida anche per noi forse è questa e sentirci anche forse un po' liberi poi di trovare dei testi di portare anche in classe qualcosa che colpisce noi stando attenti perché ovviamente magari quello che piace a noi poi lo portiamo e ragazzi non mi è capitato insomma di vedere che poi invece per loro a loro parla molto meno però qualche tentativo magari farlo anche con testi di autori non canonici o sì assolutamente sì o il discorso che facevamo l'altra volta su cosa leggono ma leggono cose che noi non considereremmo letteratura no? vedere se ci si può fare qualcosa di didattico forse è un forse sì ecco cercare di aprirci anche noi ecco e al contempo però di proporgli delle cose delle cose belle che valutiamo di livello alto questo sì ecco non so ma chiedo anche la vostra non so se volete dire qualcosa delle vostre esperienze o ecco questo se l'avevate magari mai cioè se qualcuno l'aveva trattata a scuola per esempio Gaspar Stampa o il fenomeno delle poetesse se nei manuali c'è io perché ormai se è un io perché ho insegnato insegno alle scuole medie cioè diciamo alle scuole medie quindi avevo messo anche nella mia programmazione inizio anno però non ci sono riuscita devo essere sincera non poi già ho fatto molta fatica con Petrarca e quindi poi quando sono stata lì no forse le poetesse anche no però per esempio nel manuale di storia c'era una bella c'era una bella lettura proprio sul tema appunto dell'educazione dell'accesso all'istruzione anche delle ragazze quindi per questo poi ho privilegiato anche un po' quel taglio che forse per ordini di scuola anche inferiori è più potrebbe essere più utile insomma ma sicuramente alle superiori penso che si potrebbero trattare insomma non lo so però vorrei sapere da voi anche perché io delle superiori non ho esperienza veramente mi piace perché era quello che volevamo chiedere ah prego e allora sì no non è una domanda non è una domanda è proprio un'osservazione perché noi pensavamo di chiedere a un certo punto come era andata nel rapporto con la classe la presentazione di una cosa di questo tipo perché è organica aveva un suo sviluppo insomma non era solo facciamo un sonetto del Gaspar a stampa vediamo cioè eravamo un po' incuriosite però invece non c'è stata ancora l'esperienza non ho avuto riscontro sul campo insomma però l'ho pensata in questo modo cioè inserendola all'interno ecco di un discorso un po' più ampio che si potrebbe fare è trasversale anche da portare avanti in diversi momenti anche storici insomma è interessante anche per una ripresa dei temi petrarcheschi perché almeno nella mia esperienza di lavoro facciamo Petrarca dopo che c'è stato Dante loro amano molto più Dante che Petrarca esattamente Dante funziona benissimo Petrarca è difficile scusate mi schiero però poi questo Petrarca che sì diventa un canone un modello ma non c'è mai tanto tempo per riprenderlo esattamente rilavorarlo l'anno seguente e poi ce lo ritroviamo invece rispunta sempre sempre perché facciamo Leopardi quanto è importante Petrarca e allora potrebbe essere un modo che coglie due elementi una linea di continuità della letteratura e nello stesso tempo inserisce un tema nuovo sulle donne ecco lo trovo molto interessante però me lo dovrò scoprire da sola personalmente io ancora la prova non l'ho fatta me lo dovrò scoprire è un po' questo sì eh sì e no eh sì no io ce l'ho perché ce l'ho tutte e tre e quindi sì ma terza quarta e quinta e quindi me la vedo tutta in successione tutta si può ce la posso prendere rilavorare rivedere tutto però per quella ero interessata e ho confessato subito che no le medie non ci sono riuscita al possibile vabbè era una non ho una domanda specifica era più una curiosità grazie non so cosa venga fuori però provo a formulare ma certo no mi colpiva intanto ehm questa il giudizio di Croce che sottolinea questo aspetto mi pare di averlo inteso così comunque che l'aspetto che mette in luce la quotidianità la la concretezza di un amore vissuto è ciò che rende limitata secondo Croce bassa questa poesia è un po' il destino delle donne come diceva lei che sono schiacciate quando ributtate appunto l'elemento naturale quindi insomma avrebbero questo difetto di non sapersi elevare alle vette del pensiero maschile quindi intanto il paragone con Petrarca secondo me è fattibile proprio nel senso che suggeriva forse perché da una parte abbiamo questa figura femminile che è eterea smaterializzata mentre qua c'è un amore vissuto e secondo me questo potrebbe anche facilitare volendo c'è il problema che la lingua non è semplicissima quindi per gli studenti però è vero che fa un riferimento concreto che mostra bene anche secondo me più che il fatto ovviamente che le donne non sono schiacciate ma che mostrano con più facilità la radice materiale del pensiero cioè anche del sentimento d'amore quindi e questa cosa che secondo me invece il pensiero maschile spesso ha occultato cioè come se il pensiero appunto la parte diciamo spregevole è proprio questa radice materiale del pensiero e si mostra nei suoi aspetti è vero è vero sì mi faceva venire sempre in mente Virginia Woolf che a un certo punto in un bellissimo saggio insomma una specie di racconto mi pare che si intitolava da mente pensieri di pace durante un'incursione aerea che è una cosa che lei scrive mentre appunto stanno bombardando mi sembra proprio Londra e e lei contrappone ai tavoli dei generali il tavolo da te dice lei e mi è sempre sembrato una bellissima immagine perché il tavolo dei generali è un tavolo metaforico dove si ritrovano questi che studiano le strategie di guerra eccetera lei contrappone questa cosa che è una cosa molto concreta il tavolo da te intorno al quale appunto si beve si consuma il tè e si parla e si discute e ci si scambia un pensiero che ha una radice molto più appunto terrena ma ma lì ci si scambia comunque pensiero si crea cultura si crea uno scambio eccetera quindi voglio dire forse lo stigma è proprio sempre quello cioè le donne troppo vicine non sanno dimenticare anche nel loro pensare ovviamente la materialità dell'esistenza e però ecco poi mi interessava quello ora mi sono chiarita mentre dicevo che forse questa può essere un'apertura perché ai ragazzi non a caso la collega diceva preferiscono Dante perché secondo me invece in Dante la figura che pure non sappiamo niente è Beatrice però è una donna a me pare più vera cioè mentre ecco in Petrarca c'è stato un ulteriore per questo secondo me anche i ragazzi hanno poi insomma abbiamo anche forse racconti più vivi da parte di Dante di quella che era anche non sappiamo quanti attendibili però ecco secondo me è quello che tante volte in classe si soffre di questa difficoltà che ha l'insegnante a far capire il senso di quello che studiamo e forse invece questo tipo di lavoro facilita in qualche modo la comprensione di quella che è una poesia d'amore per esempio no? Sì speriamo no volevo dire due cose su Croce che ovviamente appunto quello è un po' un paradosso perché cioè una contraddizione perché quella che è ritenuta proprio anche la la qualità di questa poesia cioè proprio l'immediato si parla anche di immediatezza di spontaneità no? ma il problema è che da una parte dice beh è bella per quello dall'altra però appunto è troppo immediata è troppo spontanea è troppo passionale quindi non torna comunque il discorso a livello concettuale c'è una contraddizione in termini no? cioè a seconda di come la si interpreta la stessa qualità è o considerata o positivamente o negativamente quindi c'è qualcosa che non quadra insomma sì e poi la seconda cosa adesso parlando di croce mi è sfuggita e volevo dire no adesso mi sfugge sul discorso della materialità no volevo ricordare anche di questo dialogo di moderata fonte che vedevo qualcuno annuiva insomma che conoscete che anche quello è un dialogo in una casa a Venezia tra delle donne una domestica conversazione viene chiamata quindi anche lì c'è qualcosa di molto concreto che poi viene raccontato di queste donne che parlano discutono e riflettono e no purtroppo mi è sfuggita quella cosa la seconda dovevo segnarmela era un commento sempre a margine di questo ah ecco sì sul fatto di Laura cioè Laura come presenza smaterializzata c'è stato un saggio molto influente negli anni 80 in America sempre su appunto quando parlavo del petrarchismo che è considerato anche una lingua maschile contro cui le donne avrebbero dovuto in qualche modo combattere per trovare la propria voce la propria espressione proprio si diceva perché ma la donna in realtà nel petrarchismo chi è? cioè è una Laura che svapora in una nube di non lo so di capelli biondi in un lembo di gonna cioè in fondo la Laura non esiste una presenza è completamente smaterializzata e quindi questo veniva considerato anche un limite del petrarchismo come lingua maschile ma in realtà poi come vi ho mostrato anche le donne fin da subito tramite limitazio petrarchi riescono a trovare un loro modo di utilizzare quella lingua che era la lingua base della società letteraria dell'epoca per parlare poi della loro esperienza della loro vita quindi sì questo io ci credo molto anche su questa idea attenzione anche il pregiudizio nei confronti del petrarchismo perché è chiaro che c'è il poeta direttante che scrive così perché va bene quella era la lingua lo scrive un sonetto a un amico e lo scrive in quella maniera forse sì senza particolare anche intenzionalità letteraria ma i grandi poeti i grandi scrittori utilizzano quella lingua al massimo delle possibilità che gli sono consentite che sono loro consentite quindi anche lì col tempo forse siamo arrivati ad una visione più lucida è più veritiera di quello che poi è la realtà storica dei testi ecco quindi questo no appunto è tutt'altro che spontaneo no 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 c'è una appunto è una costruzione letteraria come no anche nel terzo sonetto si vede bene no cioè ma molto elaborata molto anche il modo in cui lei si auto rappresenta nelle rime come amante fedele che poi però dicevo sì amante fedelissima ma poi finita la storia con Collaltino c'è anche una nuova passione che viene raccontata quindi no in realtà c'è una costruzione e ecco questo forse è emerso un po' meno dal mio discorso ma i modelli ne sono stati trovati tanti cioè al di là di Petrarca e di Bembo l'influsso delle eroides per esempio quindi il modello elegia col modello vidiano che è fondamentale per la stampa cioè sono donne che hanno una cultura letteraria una serie di testi una biblioteca anche ampia approfondita e che sono tutt'altro che spontanee e immediate cioè ci è voluto un po' forse perché però la sfida che adesso è di dimostrare la cultura la profondità e lo spessore di questi di questi testi che è tutt'altro che è tutto fuorché spontaneo insomma ecco io volevo praticamente chiedere questa cosa qui perché mi colpiva che fin dal principio Petrarca definisca il suo amore un giovanile errore un errore e lei invece lo viva al contrario pur nella tragicità non è l'epilogo poi che è comunque doloroso e comunque lo viva in maniera completamente diversa non lo etichetta come un errore questo per quello volevo chiedere della spontaneità o della costruzione del ritorno a posteriori sul giudizio di quell'amore da parte della stampa lì chiaramente infatti allora c'è un discorso lì la costruzione letteraria è evidente perché lì è un fingere la somiglianza in qualche modo per esprimere la propria differenza perché uno apre vede voi che ascoltate insomma però in realtà poi se si va a leggere il discorso è diverso quindi lì c'è anche tanta costruzione letteraria è chiaro che la stampa cioè qualcuno dice ma chissà come sarebbero andate le cose se perché la stampa muore molto giovane muore a 31 anni forse questo non l'avevo detto quindi Petrarca lavora ai suoi sonetti fino alla fine no ecco fino ai 70 anni quindi è chiaro che anche questo incide insomma sul percorso spirituale interiore di una persona però lì c'è una costruzione forte in senso contrastivo rispetto a quello che viene narrato nel modello anche se poi vi dicevo c'è una chiusa religiosa ci sono dei sonetti di pentimento e di ritrattazione però appena si aprono le rime c'è Petrarca riletto e filtrato attraverso la propria esperienza in quella maniera insomma che spicca sicuramente ecco quindi e spicca non per spontaneità tutt'altro insomma no ecco questo mi sembra evidente sì e comunque anche in Petrarca cioè mentre il sonetto premiale del canzoniere è molto netto in questa condanna però in realtà anche in Petrarca dopo nei testi presi magari singolarmente la situazione è molto diversa cioè è la costruzione complessiva dell'opera che ci dà quest'idea che il sonetto premiale proprio mette lì all'inizio va bene però molti altri testi nel corso dell'opera in realtà non so esatto c'è proprio questa oscillazione è un'ambivalenza continua no per cui bene va bene allora se se non ci sono altre domande possiamo ringraziare Veronica grazie grazie a voi e ora vediamo di darci un po' da fare con il laboratorio grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi